Fra Stati Uniti e Cina, intesa sul commercio, Pechino acquisterà beni americani per 200 miliardi di dollari nei prossimi due anni, mentre gli Stati Uniti revocano le tariffe del 15% sui prodotti made in China per un valore di 160 miliardi di dollari. Il Presidente Trump esulta, ma da martedì dovrà fare i conti con la procedura di impeachment che approda al Senato. In Russia il Presidente Putin ha dato il via a una stagione di riforme costituzionali in vista delle elezioni e della scadenza del suo mandato nel 2024. Si è dimesso il Premier Medvedev, al suo posto già scelto il successore è Mikhail Mishustin, uomo forte del fisco. Per gli oppositori di Putin il suo unico obiettivo è restare al potere. Fragile tregua della crisi libica, mentre la diplomazia è al lavoro per la conferenza internazionale di Berlino di domenica. L'Italia difende la strada di una soluzione politica, mentre si rafforza l'ipotesi di una missione militare di pace a guida europea. Tensioni nella maggioranza dopo lo strappo di Italia Viva sulla prescrizione votata da PD 5 Stelle e l'EU. I Renziani infatti hanno votato con Forza Italia, reciproco scambio di accuse fra l'ex Premier e il PD, anche sulle candidature per le regionali. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Avete sentito dall'ultimo titolo ancora tensioni all'interno della maggioranza, ma ci sono molte notizie importanti internazionali che aprono la nostra edizione di questa mattina. Le più importanti arrivano dagli Stati Uniti, dove ieri c'è stata la firma dell'accordo fra Stati Uniti e Cina. C'era il Presidente Trump e il Vice Premier, il Vice Presidente cinese a siglare, che fa terminare, almeno per il momento, la guerra dei Dazi. Ma c'è un grave problema per la Casa Bianca. La procedura di impeachment è praticamente al via. Martedì prossimo. Gioie e dolori di una presidenza sempre in bilico. Dal primo accordo con la Cina per superare la guerra dei Dazi, firmato in diretta in una cerimonia che ha il compito di dimostrare a tutti come le politiche commerciali di Donald Trump, nonostante le critiche feroci, riducano gli avversari. Questa volta Pechino ha più miti consigli. All'impeachment ormai ha la sua fase finale, il processo al Senato. Ci sono voluti due anni di negoziati per arrivare al mini-accordo di ieri sulle tariffe. La fase 1, spiega Trump. Complessivamente, Pechino acquisterà bene i servizi a stelle strisce per 200 miliardi di dollari nei prossimi due anni, soprattutto nel comparto della produzione agricola, fonte di voti nell'America profonda necessaria al Presidente per rimanere in carica. Washington dal canto suo revocherà le nuove tariffe al 15% che sarebbero scattate il 15 dicembre scorso su quasi 160 miliardi di dollari di prodotti made in China. Rimangono i dazzi al 25% su 250 miliardi di dollari di importazioni cinesi, mentre verranno ridotti al 7,5 quelli sui rimanenti 120 miliardi di dollari. Trump ignorando la delegazione cinese, nel discorso si rivolge direttamente ai capitani di industria delle grandi compagnie americane schierate in parata, rimarcando il grande successo ed addirittura chiedendo un ringraziamento pubblico per un'economia che vola. Wall Street ieri ha battuto tutti i record. A rovinare la festa del Presidente sono state però le penne di Nancy Pelosi, quelle che la Speaker della Camera ha consegnato come un regalo ai democratici che hanno firmato i due articoli di impeachment, abuso di potere ed ostruzione del lavoro del Congresso per l'Ukrainagate ed oggi giungeranno al Senato. È l'atto finale della messa in Stato d'accusa, da martedì comincia il processo con il giuramento del Presidente della Corte Suprema, Roberts, che lo deve condurre. Sull'esito, a meno di una catastrofe, Trump può dormire sonni tranquilli. La sua maggioranza al Senato in campagna elettorale è compatta nel difenderlo ed ha i voti per evitare che venga condannato. Andiamo in Russia, quindi ancora pagina internazionale, dove Putin ha proposto riforme costituzionali importanti, tanto importanti che si è dimesso il suo premier Dmitry Medvedev, uno dei suoi amici più intimi ed è arrivato uno sconosciuto a guidare il nuovo governo di Mosca. I russi vogliono cambiamenti e Vladimir Putin cambia parte della sua Russia. Lo fa dal palco dell'Assemblea federale e quanto annunciato sa di rivoluzione all'apparenza con toni sempre più democratici. Sì, perché lo Zara a Mosca ieri ha annunciato che a breve il Parlamento vedrà rafforzate le sue funzioni, a discapito proprio degli attuali poteri presidenziali. L'Assemblea nominerà primo ministro e componenti il governo, potrà rimuovere i giudici costituzionali e della Corte Suprema, colpevoli di azioni disonorevoli. Ce n'è poi anche per gli alti funzionari dello Stato che non potranno più avere il doppio passaporto e il permesso di risiedere all'estero per candidarsi alla Presidenza. Infine bisognerà aver vissuto almeno per 25 anni di fila in Russia. Date e nuove regole, dicono Mosca, saranno messe a punto entro l'estate prossima, portando così la Russia al voto del 2020, a riforme già in vigore. Il Paese comunque nei piani di Putin resterà una forte democrazia presidenziale perché è questo che serve alla moderna Russia. Inevitabilmente c'è già chi parla di manovre che Putin ha messo in moto per rimanere capo indiscusso del Paese, ma più aperto, accettabile. La Presidenza scade tra quattro anni, altre non ne sono previste, ma Putin c'è da scommetterci, proverà a restare Zar, magari vestito nuovamente da Premier, con poteri però allargati. Ieri, secondo un programma studiato, il governo russo si è dimesso per dare a Putin l'opportunità di prendere tutte le decisioni necessarie. Il Premier uscente, Dmitry Medvedev, sarà vice capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ruolo creato, si dice appositamente, per lui, per premiare la sua fedeltà dimostrata negli anni al Presidente che ha già indicato in Mikhail Mitsushin il nuovo Primo Ministro e deloggiato i ministri uscenti per il loro lavoro svolto chiedendogli di rimanere in carica sennò che il nuovo esecutivo non si sarà insediato. E ora la Libia, la grande crisi internazionale insieme all'Iran. L'appuntamento è quello di domenica la conferenza di Berlino, mentre continuano le grandi manovre diplomatiche, ma anche militari, perché c'è l'idea magari di rafforzare il nostro contingente presente nel paese sotto l'egida dell'Unione Europea, ma anche delle Nazioni Unite. La conferenza di Berlino sulla Libia si terrà domenica prossima. Dovrebbero esserci i leader delle due fazioni in lotta, Sarraj e Haftar. In questi casi forse il condizionale è d'obbligo. Il generale della Cirenaica Haftar, a sorpresa due giorni fa, non ha firmato il cessato il fuoco a Mosca, decidendo invece di prendere tempo per valutare la proposta di tregua. Una cosa è certa, Haftar non vuole che la Turchia faccia da mediatore per la pace e avrebbe chiesto inoltre a Mosca una commissione dell'ONU per monitorare il cessato il fuoco. La Germania in ogni caso non ha confermato la presenza dei due principali protagonisti del conflitto libico, il premier libico Al-Sarraj e il generale Haftar. Alla conferenza di Berlino parteciperanno Italia, Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Turchia, Regno Unito, Emirati Arabi. Saranno presenti anche ONU e Unione Europea. Non è escluso che vi prenderanno parte Tunisia ed Egitto. Intanto il premier italiano, Giuseppe Conte, non ha escluso l'ipotesi di mandare altri soldati in Libia, ma ha detto Conte solo in un contesto di sicurezza e con un mandato chiaro. L'Italia ha fatto una scelta ben precisa, ha ribadito il Presidente del Consiglio. Siamo disponibili per indirizzare la comunità internazionale verso una soluzione politica, ma non siamo disponibili a fornire armi o militari per alimentare un conflitto armato. In sostanza, la pace in Libia potrebbe dipendere dal successo della conferenza di Berlino, così come ha spiegato la portavoce del governo tedesco Demmer. La conferenza non sarà alla conclusione del processo di pacificazione, ma all'inizio. Da parte sua, il ministro degli esteri Di Maio si è espresso a favore di una missione di pace europea contro le interferenze in Libia di altri paesi. E siamo alla politica. Ve l'ho detto, scintille ieri in commissione perché Italia Viva, quindi una delle forze che sostengono il governo Conte, si è distinta sul tema della prescrizione e ha votato insieme a Forza Italia contro l'accordo trovato da Movimento 5 Stelle, PD e l'EU per proprio la nuova legge Bonafede in vigore dal primo gennaio. In commissione giustizia alla Camera sul caso prescrizione la maggioranza si spacca. Italia Viva vota insieme alle opposizioni contro l'emendamento presentato dal resto dalla coalizione giallorossa che punta all'annullamento del testo a firma dell'Azzurro Costa che, a sua volta, intende azzerare la riforma della prescrizione Bonafede entrata in vigore dal primo gennaio. E solo grazie al presidente della commissione, la 5 Stelle e Businarolo, la maggioranza riesce a prevalere. Dunque, come più volte annunciato i renziani, in assenza della maggioranza in commissione e annunciano di ripetere lo strappo anche in aula. E in più accusano i Dem di essersi grillizzati inseguendo gli alleati su un terreno, quello della prescrizione, sul quale avevano minacciato fuoco e fiamme e Renzi a porta a porta spiega. Noi abbiamo votato in commissione per dire non è possibile che ci sia un processo senza fine perché a quel punto che succede? Se vi indagano potete restare imputati a vita. La legge Bonafede è un obbrobio. Questa legge l'ha votata Bonafede, i 5 Stelle, e Salvini? Ma il PD contrattacca così. Noi non andremo mai a rimorchio di Salvini. Dicano se vogliono rompere la maggioranza e Orlando aggiunge siamo convinti che la legge Bonafede potrà essere rivista con un buon punto di equilibrio. Scambio di bordate tra PD e Italia Viva che trova slancio anche nella decisione di Renzi di non sostenere ufficialmente il candidato Dem in Calabria e di annunciarne uno proprio in Puglia. Tanto che Nicola Zingaretti accusa Italia Viva di fare un regalo a Matteo Salvini, Marenzi replica. Nessuna intenzione di far cadere il governo, ma non accetteremo subinamente ogni decisione. Anche i 5 Stelle attaccano gli ex PD. La scelta politica del gruppo di Italia Viva di votare con le opposizioni deve essere oggetto di valutazione nelle sedi appropriate, minaccia il presidente della Commissione Giustizia. Ma ora la tensione si sposa al 27 gennaio, quando la questione prescrizione arriverà in aula e quando a rischio ci sarà la tenuta del governo, se l'Italia Viva dovesse confermare il suo disallineamento dalla maggioranza e il voto conforme a quello del centrodestra. Intanto il ministro della Giustizia Bonafede accelera sulla riforma del processo penale, che dovrà accorciare i tempi dei processi. Era molto atteso ed è arrivato il primo intervento di Papa Francesco sulla vicenda, sulla polemica del libro appena uscito in Francia sul celibato dei predi, sul quale invece il Papa ha mostrato delle aperture. Il volume è scritto dal cardinale Robert Sarà con il Papa Emerito Benedetto XVI che nel frattempo però ha ritirato la sua firma dal volume, facendo sapere di non condividere le posizioni del cardinale sul tema. In un colloquio con Eugenio Scalfari, apparsa oggi sul quotidiano la Repubblica. Bergoglio infatti smentisce le polemiche con Ratzinger, affermando che è normale che vi siano degli oppositori in un'organizzazione, la Chiesa, che abbraccia centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. E andiamo a Milano invece per una sentenza che era attesa quella d'appello per la vicenda delle presunte tangenti pagate da Eni Saipem in Algeria. Bene, tutti assolti perché il fatto non sussiste. Non è mai stata pagata alcuna tangente da 197 milioni di euro da Saipem a funzionari pubblici algerini con il coinvolgimento di Eni per ottenere appalti in Algeria tra il 2008 e il 2011. Lo hanno stabilito ieri i giudici della Corte d'Appello di Milano in secondo grado annullando le dieci condanne inflitte nel primo procedimento giudiziario il fatto non sussiste. Vista la contraddittorità delle prove raccolte, la Corte ha stabilito che non sono sufficienti a dimostrare l'accusa di corruzione internazionale. Smontato l'impianto accusatorio, secondo la Procura di Milano, le mazzette versate da Saipem a presunti mediatori algerini con il coinvolgimento di alcuni esponenti del governo nordafricano avrebbero garantito ad Eni la concessione di alcuni giacimenti nel paese e alla partecipata a otto contratti da 11 miliardi di euro. Il verdetto assolve non solo gli imputati già assolti in tribunale nel 2018, ovvero Eni e il suo ex amministratore delegato Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan, ma anche gli altri condannati in primo grado, i manager di Saipem e anche l'azienda. Revocata l'ha partecipata alla confisca di 197 milioni il prezzo della presunta corruzione. Su Scaroni penne ancora il primo grado dell'altro processo milanese che lo vede coimputato insieme all'attuale AD di Eni Descalzi sulle presunte tangenti in Nigeria. Per la cronaca c'è una notizia appena arrivata, una bomba è stata fatta esplodere a Foggia contro un centro per anziani che è proprietà del gruppo Sanità Più, il cui responsabile delle risorse umane, Cristian Vigilante, aveva già subito un attentato di Namitardo il 3 gennaio scorso, perché aveva testimoniato in un'inchiesta della DDA Foggiana contro la mafia locale. Ebbene all'interno della struttura dove è stata fatta esplodere la bomba c'era una donna delle polizie che è miracolosamente rimasta illesa ed è ricoverata ora in stato di shock. La polizia naturalmente sta indagando. E ora a Roma dove c'è la vicenda di una scuola che aveva organizzato per classi le sue classi. La polemica è stata forte ma è durata lo spazio di un mattino, perché nel giro di poche ore sono state rimosse quelle frasi discriminatorie dal sito di una scuola statale di Roma, l'Istituto Comprensivo di Via Trionfale, frequentato da studenti di infanzi elementari e medie. In una sede ci sono i figli delle famiglie di ceto medio-alto, in un'altra alunni di estrazione sociale medio-bassa con cittadinanza non italiana. In una terza studenti che appartengono all'alta borghesia, insieme a figli di lavoratori occupati presso queste famiglie, colf, badanti, autisti e simili, era scritto. A scuola insomma divisi per censo. I primi a criticare quelle definizioni erano stati i capi di istituto. La scuola dovrebbe essere inclusiva, luogo di educazione no a forme di categorizzazione superficiali e inutili, aveva scritto il presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi Rusconi. Poi l'intervento del governo, con la neoministra dell'istruzione Azzolina, non condivido una cosa senza senso, ha detto, e del sottosegretario De Cristofaro, che ha chiesto la rimozione di quelle parole dal web. Niente classismo, nessun intento di discriminazione, solo una mera descrizione socio-economica del territorio, secondo le indicazioni del MIUR, relativo al piano di offerta formativa. Aveva provato a difendersi così il Consiglio di Istituto, poi la rapida retromarcia. L'ampiezza del territorio, è scritto adesso sul sito, rende ragione della disomogeneità della tipologia dell'utenza, che appartiene a fasce socio-culturali assai diversificate. Abbiamo parlato di questa intervista di Papa Francesco. Bene, il Papa ha detto anche altro. Il clima è uno dei temi di maggiore interesse del quale tutti dobbiamo farci carico nel colloquio con Repubblica. Ed è vero perché il decennio 2010-2019 è stato quello più caldo mai registrato nella storia. Quello passato è stato il secondo anno più caldo che sia mai stato registrato. Dal 1850 solo il 2016 aveva raggiunto temperature così alte, mentre il decennio 2010-2019 è stato il più caldo mai rilevato. Laddove non sono bastate le manifestazioni di piazza, forse arriverà l'allarme arrivato ieri dall'ONU. Il nostro pianeta è bollente e registra di media 1,1 grado in più rispetto all'era pre-industriale di questo passo alla fine del secolo. La temperatura potrebbe aumentare fino a 5 gradi. Ma secondo il rapporto stilato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'aumento della temperatura è solo parte del problema. Il 2019 ha visto numeri record nell'innalzamento del livello degli oceani, record nell'acidificazione dell'acqua che ha stravolto la fauna ittica, record nello scioglimento dei ghiacci. Tutto questo mentre continuano ad arrivare le immagini dell'Australia distrutta dagli incendi, delle città soffocate dall'inquinamento, delle migrazioni di popoli devastati dalla fame. Fervono azioni, l'ONU striglia i governi e quegli accordi di Parigi siglati nel 2015 da 196 paesi, già resi carta straccia di fatto dopo il ritiro di Trump, sembrano ancora di più ricordi lontani. Così come fa ancora più rabbia a pensare che la conferenza sul clima di Madrid di un mese fa si concluse con un nulla di fatto e con un documento finale che rinunciava a trovare un'intesa anche sulle emissioni di carbonio. Sono infatti i paesi più inquinanti, Stati Uniti, Cina e India, che si sono sottratti alla loro responsabilità di ridurre le emissioni di gas serra, bloccando i progressi significativi. Il Green New Deal europeo, fortemente voluto dalla Presidente della Commissione europea che ha avuto il via libera dal Parlamento di Strasburgo e che punta ad arrivare a mille miliardi di euro di investimenti in dieci anni, da solo non basterà. E poi ci sono i risultati degli ottavi di Coppa Italia. La Juventus ha battuto l'Udinese per 4 a 0, il Milan la Spal per 3 a 0, mentre la Fiorentina ha piegato 2 a 1 l'Atalanta, tutte qualificate le vincenti e oggi si gioca Parma-Roma e ora le immagini sempre suggestive della Dakar. In una gara come la Dakar non vince chi va più veloce ma chi sbaglia di meno. E in una gara come la Dakar l'errore è sempre dietro l'angolo per tutti. Nella tappa di ieri per esempio, accorciata per motivi di sicurezza, a sbagliare navigazione è stato mister Dakar in persona Stefan Peteransel, 13 centri tra auto e moto, così come il principe Catariota Nasser Al-Atia, campione in carica eppure anche gli incappati in valutazioni di ruote errate, a tutto vantaggio del veterano Carlos Sainz, sempre più vicino al Tris sulla sua mini. Una regola quella del limitare l'errore è che nel deserto deve scavalcare l'attitudine alla velocità anche quando è scritta nel DNA, come nel caso del pluricampione del mondo di Formula 1, Fernando Alonso. Lo spagnolo alla sua prima Dakar aveva risalito furiosamente la classifica fino alle prime dieci posizioni dopo aver rotto un semiasse nella seconda frazione ma evidentemente non altrettanto acquisita è stata l'esperienza nell'evitare sbagli. Alonso ieri, dopo pochi chilometri di speciale, ha affrontato una duna a velocità eccessiva cappottandosi più volte. Nessuna conseguenza per l'equipaggio, ma allora persa per arrivare al traguardo con il parabrezza sfondato e la macchina danneggiata, ha ricacciato indietro Alonso fino alla quattordicesima posizione, quando mancano solo due tappe alla fine. Di certo non sufficienti per rimontare, ma forse adeguate per ricordare ad Alonso la regola d'oro scritta sulla sabbia. Allora, fra poco Paolo sotto corona per le previsioni meteorologiche. Subito dopo c'è il dibattito di Omnibus, c'è il ministro Giuseppe Provenzano, il titolare del Sud, fra gli ospiti di Alessandra Sardoni, che oggi ha in studio anche Dario Di Vico, Davide Faraone, Alessandra Ghisleri, Augusto Minzolini e Nicola Molteni. Alle 13.30 c'è la prossima edizione del telegiornale, noi invece ci vediamo domani alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.